Un'unità di potenza di petrolica di HydroNIT HydroNIT è sempre concentrato per migliorare e ampliare il suo range di potenze di potenza di hydraulica Come dal mercato del mercato, presento il petrolica di petrolica. Quando avevamo designato e sviluppato un nuovo potenza di potenza di potenza, avevamo riconsiderato tutti gli aspetti che sono coinvolgati. Inizia dal capolino, avevamo designato un nuovo capolino elastico che non aveva esistito nella precedenza di HydroNIT e avevamo l'opportunità di designare un capolino elastico che è anche buono per motori AC. Abbiamo fatto testi extensivi con un capolino elastico e con un motore di petrolica e abbiamo aggiunto alcuni cittadini di cittadini di pressione per provare che la soluzione è realizzata. I testi che abbiamo fatto avevamo anche alcuni test di fatiglia di alcuni cittadini di cittadini di cittadini. Durante i testi abbiamo fatto le curve per ogni pump nella regione di hydronica per il flusso di pressione. Quali sono le specifiche di questo motore? È un 4-striaco, singolo cilindro, 200cc, 5kW di petrolica e funziona a 3600rpm. È importante dire che questa non è una unità completamente nuova. Abbiamo fatto le parti standarde dalla serie di PPC, di PPC, di PPC, di PPC. Tutto che avete già in stocka può essere usato. Allora abbiamo appena designato e prodotto l'interfascia per il motore di petrolica. Potete usare il nostro nostro motore di hydronica o potete usare i motore che avete già in stocka come Honda, Yamaha, Yamaha, Koehler, Subaru e altri. Quali sono le applicazioni tipiche di queste unità di potenza? Immagino una situazione in cui sei nel bosco o che sei nel mondo, nel medio di un deserto o in un'area non sviluppata. Non c'è nessun potere elettrico e bisogna operare un tipo di ruolo, un strumento, un strumento, per esempio. Quali sono le tecniche di PPC? Quali sono le tecniche di PPC? Quali sono le tecniche di PPC? Quali sono le tecniche di PPC?